bene la sessione di natalia è incominciata benvenuti ciao ciao conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente alla nostra amica natalia 5 4 3 2 come la vedi la vedo come se la vedo e lei e la vedo che come se fosse immobilizzata in questa vasca come se fosse una vasca circolare dove dentro c'è come se fossero un po le sabbie mobili no un po una melma così però color nero tipo petrolio dove lei è immersa fino a un certo punto e dove non riesce a uscire e mi dice che questo è il posto dove si trova adesso da cui non sa come fare per uscire e vorrebbe invece raggiungere un posto che mi fa vedere si vede tipo una specie di spazio molto ampio azzurro e dice quella è la felicità il cielo azzurro se questo spazio come il maglione e gli occhi di natalia azzurro da l'autorizzazione natalia se è pronta a questo viaggio io la conosco già ha fatto un percorso strano con con me diciamo che questa è la nostra prima sessione nonostante io l'abbia già vista due volte e non dico altro partiamo dalla cosa meno importante lei ha già fatto una sessione grazie anni fa con un grande gruppo bla bla molto organizzato brutta sensazione nessun risultato che è successo allora io vedo vedo lei e poi vedo tipo un un vetro diviso divisorio ok e poi vedo una squadra dietro allora a volte c'è quella sessione di questa è la scena di quella sessione e ci sono dei punti dove al posto del vetro scende tipo uno scenario quindi come se ci fosse una fotografia no un piccolo filmato e a volte questo scenario si alza e ci sono invece tutte le persone dietro una squadra di persone dietro che in scena diciamo l'entità ok fa vedere quello l'entità che si vedono oltre il vetro sono le sue entità ma come se lei è come se le facce le fossero state mostrate ma questo vetro fa sì che il lavoro ok e invece lo ripeti scusami che si è andata via dietro il vetro quello che in scena hanno dietro il vetro sono le erano l'entità che riguardavano natalia ok ma essendo dietro il vetro il lavoro che è stato fatto non ha avuto effetto su natalia perché sono detto bene c'era il vetro se l'ha messo il vetro loro ora loro loro fanno tutto dietro il vetro è sì ma loro sono d'accordo con l'entità sì sì va bene natalia dato l'autorizzazione ok allora io posso dire tutto no natalia sta con una persona conosciuta un'altra vibrazione di natalia 1,3 miliardi percentuale di consapevolezza 183 ps e pie 57 43 vite precedenti 1211 cervello 9,3 l'attuale compagno di natalia è a un rapporto particolare animica mente parlando con lei è come se ci fosse un come se ci fosse una parte di lui che deve stare attaccata una parte di lei ma che è una cosa che proviene da altre vite come se ci fosse questo io c'è in eterico vedo che è come se ci fosse un un tubo a che riunisce ma che è stato attaccato lì già da altre vite e non si ancora staccato ok in quante delle 1211 vite hanno vissuto insieme 7 e quale quella che si porta dietro questo residuo la quarta che hanno vissuto assieme ok che è successo richiedono uno per l'altra allora vedo questa scena dove allora vedo questa scena dove loro erano si erano innamorati l'uno dell'altra ma sono stati divisi quindi vedo questa scena dove lei è su una carrozza e lui viene portato via forza e la carrozza con lei parte ok tutti sono disperati e dopo lui divini non dimmi dimmi dopo lui fa una specie di incantesimo come si fa una specie di incantesimo e con questo incantesimo lui si attacca lei questo incantesimo che riesce a fare è un attaccamento eterno tra virgolette no quindi lui lo fa per l'eternità mi ricorda molto romero e giulietta diciamo che l'incantesimo può equivalere a non fino a che morte ci separi ma per sempre se e quindi questo è un contratto nel classico esatto sì va bene lo mettiamo lì una delle cose che più mi ha colpito di natalia oltre ai suoi punti e questa unghia nera allora lei ha smaltato le sue unghie tutte di bianco tranne l'anulare sinistro che è il dito su cui si porta la fedele non è sposato ovviamente causa esoterica lei la dice che l'ha fatto così una mattina sta svegliata e ha fatto quella nera allora che contro la moda gli usi di adesso adesso se ne fa una sì una no si usano due tre colori di fan tante cose ma non quella poi nero bianco tenere nero ottenere oppure sembra che si sia saccagnato un dito no si è spaccata un dirato una botta un dito sembra che sia nera per quello cioè è veramente insolita come cosa lei adesso sta ridendo però è veramente insolita e lei la trovata normale insisto su questa cosa perché questa è ps così sì 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 allora il senso è come se la parte della sua felicità di quella porzione di cielo azzurro diciamo distesa azzurra è il matrimonio e anche figli quello poi l'ho visto da un'altra parte però è quello il senso però il nero ha un senso sia il bianco che il nero hanno un senso il nero è lì perché adesso non è non è la condizione giusta cioè il mio desiderio è questo ma in questo momento è nero perché col compagno attuale assolutamente la ps non c'è il segno è la ps si vuole staccare da questa relazione vuole trovare il modo di andare là perché parte della sua felicità è un matrimonio felice con una persona con cui lei può condividere tutti i suoi aspetti liberamente per esempio questi queste conoscenze queste interessi esoterici sì esatto esatto il nuovo compagno segreto diciamo lo voglio chiamare così e non con quella brutta parola dovrebbe utilizzare invece molto più aperto molto più interessato molto più con le antenne alzate nonostante abbia fatto qualche giochino con gli aghi è molto più interessato perché la vuole far contenta diciamo le sta mentendo fa un po finta di o è veramente interessato allora non ne conosce niente vedo proprio che è proprio non a conoscenza di queste cose ma è molto incuriosito curiosito è molto incuriosito credo che è curioso di tutto di cose nuove comunque lui è sempre disposto a andare a vedere se può esserci può essere qualcosa che lo interessa quando trova qualcosa di nuovo che è curiosito sinceramente esistono nella vita di natalia anime gemelle fiamme una fiamma qualcosa no la fiamma no la fiamma non la vedo incarnata ci sono quattro anime gemelle e quella che è come se si fosse illuminata da sola la vedo in toscana né l'attuale compagno né il nuovo possibile compagno è una qualche animale fine no non è un'anima fine lo vedo molto compatibile con lei ma non al punto di essere una un'anima gemella fine ok va bene ci sono entità con natalia ci sono tre entità mentali e poi ne è tornata una ne è tornata una però piccola vedo un falco uniforme tornata in che senso di fatto lei tranne che con quelli l'hanno non ho mai fatto una sessione però ha fatto un altro lavoro ha detto fatto l'altro lavoro è andata a dire con l'altro lavoro si è tornata è tornata quando tornato falconiforme quando sei otto mesi fa più o meno corrispondenza di vedo in un momento un po dove le aveva le vibrazioni un po più basse mi è arrivato così però non so se se coincide con la realtà quando il suo compagno ha preso in considerazione la possibilità di ci vacarsi è come se lei le ha provato è andata un po in crisi comunque un momento dove le vibrazioni si sono abbassate più del solito ha iniziato a mettere in discussione un po tutta la il compagno però non ha mai manifestato questa intenzione non gliel'ha detto quindi questa cosa all'altro altro l'altro sì 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 ho detto nuovo è perché come se io e nette ricordo vedo più di ed opzioni di lavoro no il vecchio non c'è più niente di nuovo è non c'è più e mi viene così c'è che livello è 2 no no stavamo parlando del falconiforme e del falconiforme scusa e torna la scusa scusa entità mentali le vediamo numero e compito a 234 alla 2 sono un po diciamo che la 2 e la 3 si sovrappongono un po nel senso che alla fine poi quello che vedo io un po l'effetto è lo stesso su di lei c'è la sua in sicurezza e vedo che va un po a volte come se andasse un po con i piedi di piombo no quindi magari ci sono delle situazioni dove lei ci entra ma con molta calma e molto deve prima osservare così e quello che vedo è che l'entità di livello 2 la rende molto insicura molto è quella che le dice nella mente stai attenta perché qua non so se tu sei in grado no baci piano perché qua e per c'è vedo proprio che la mette tipo per persone che sono molto più capaci di tè per esempio no la mette la frena in questa maniera entità di livello 3 quella che invece fa tipo la frena però dall'esterno fa sospettare delle persone da fuori come se la giusta se si sentisse giudicata dall'esterno ok c'è l'ultimo è l'ultima è quella che la rende che le fa proprio cambiare umore quella che la rende sempre cupa seria diceva prima magari tutto un corpo faccio due tre giorni belle allegra poi tutto ad un colpo sono seria triste cupa 2 amotivo la terra 4 4 cambio di umore proprio lo vedo proprio c'è si nota è proprio repentina c'è da 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 livello 4 nel senso fosse la 2 magari lei lo percepisce un po un po no ma quattro è proprio forte la sensazione edl ce n'è uno uno che non è dentro e gira un po ok impianti allora c'è un impianto mentale che tipo un disco un po alla fine c'è in cima dentro mezzo ma verso l'alto del cervello ok poi prima quando lei ha detto che stava male da piccolo e poi le hanno tolto le le tonsille poi è stata bene lì c'era un impianto e da piccola la sua ps riusciva a reagire era riusciva a reagire quindi è come se se ne fosse accorta e cercava di inglobarlo quindi si chiamava il tessuto vedo spesso che quando c'è quando a volte ci sono degli impianti e la ps cerca di reagire di eliminarlo si crea proprio del tessuto infiammatorio intorno e quindi poi quando uno magari va a fare delle visite di viene asportata quella parte e dentro c'è l'impianto ed era stata la reazione della ps quindi questa è la e la mandibola sinistra no 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 le tonsille e quel pezzo di è uguale quella parte lì che adesso le fa se paragonato non già ma fa uguale si comporta nello stesso modo se è un impianto è messo da durante il parto quando è nata durante la sua nascita a chi è stato messo c'è odino che con un felino ide durante hanno fatto durante il parto le hanno fatto una taxa e quando io chiamo le entità i tiri che vengono tutta dal parte ma ci sono quelle collegate quelle no ma è anche vero che quelle collegate o quelle che non chiamiamo se ne va tutto si 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 va tutto assolutamente vari lavori però io voglio vedere lì tutti sono attenti il gattone il falcone queste cose qua basta impianti e la tiroide la tiroide è un impianto ok quindi causa della tiroide lo sappiamo sì in causa della teoria dei polemia i denti allora l'immagine che mi è arrivata in atti in eterico e che lei da bimba e la vedo piccola già piccola piccola quando iniziava gattonare camminare la vedo che ne te che come se lei cercasse sempre di prendere di essere vista dal padre quindi di riprendere il padre per poter andare per averlo vicino ok in eterico vedo proprio lei piccolina il padre che va avanti quindi le dà le spalle e va avanti e lei non riesce mai a raggiungerlo ea questa cosa di non riuscire mai ad avere un contatto col padre essere trascinata per tutta la vita questa cosa quindi i denti sono collegati al rapporto col padre sì e ad adulto adesso può essere anche c'è lo trasla sul rapporto col maschile quindi con il parco di partner ok padre vivo è data questa cosa c'è anche tua mamma reni le avevano fatto c'era stato un periodo dove le facciano delle abduction dove collegavano le collegavano due tipo due tupi proprio da dietro ha collegati ai reni e poi facevano scorrere l'informazione cioè prelevavano l'energia di natalia dai reni e la facevano scorrere in questi posti e poi prenderanno l'informazione come se volessero copiare l'energia della ps durante l'addaction vedo proprio che c'è stato un affaticamento fisico durante queste abduction dire che sono durante una decina d'anni belle a a di suo come se avesse un'ipersensibilità alle energie esterne vedo in eterico vedo proprio la sua pelle che ha contatto con alcune energie che vivono in una certa maniera la sua pelle reagisce in maniera esagerata rispetto a una normalità ecco quindi proprio sensibile in quel senso quindi il lavoro a contatto col pubblico non l'aiuta no vabbè lanciano l'abbiamo visto ma grezza che abbinerei alle mestruazioni forti e dolorose sebbene ben cadenzate ben no forti forti non dolorose corte corte giusto ok corte forti e però regolari allora prima ho visto che come senso corpo la sua ps le stesse dando un altro messaggio che era un campo legato anche quello dell'unghia infatti prima dicevano il suo obiettivo di della famiglia ok è come se la ps volesse dirle questo è un tuo desiderio cioè fare figli è un tuo desiderio e è un tuo obiettivo io te lo dico e così anche a livello di passi che puoi fare lei però vi sta dicendo di no mi sta dicendo che non è una sua intenzione e della ps sì lei forse è consapevole che qua portare dei figli non è una grandissima idea stai facendo di sì beh quindi allora diciamolo alla ps che forse doveva creare una creazione o più accogliente essi infatti però chi lo sa magari le trova la sua fiamma in toscana e tutto cambia questo magari può essere essere questo può essere il messaggio sì esatto c'è domanda ormai vi chiamo sempre lì non so perché io non so perché il figlio di due fiamme chi ha generale è connesso ai due animicamente parlando quello che mi è venuto la prima cosa che mi è venuto che mi ha fatto vedere c'è perché come se ci ho visto la fiamma l'anima la ps delle due fiamme ok e poi la ps del figlio e la ps del figlio mi ha fatto vedere che sa già esattamente come trovare la fiamma c'è nasce con che sa già esattamente come trovarci e non ci sono interferenze che possono interferire riguardo a questa cosa perché c'è lo sa già ce ne sono figli di fiamme in giro adesso al momento 230 mila su 300 milioni di fiamme che insomma non è proprio niente proprio zero ma è veramente però è poco sì ok sì quello che vedo io che secondo me siamo all'inizio di questa parte del gioco più evoluta ok quando abbiamo fatto vabbè natalia non lo sa comunque quando abbiamo fatto questo dovrebbe saperlo lo specchio delle anime delle fiamme gemelle e quando questo non lo sa abbiamo fatto addio after time abbiamo effettivamente dato un contributo globale l'argomento fiamme perché nell'arco di un giorno mi sono arrivata tre messaggi mail di questo tipo intanto controllino pure questi non mi sono mai arrivati dei messaggi del genere ciao incontrato una ragazza c'è una connessione stranissima ma può essere tutti oggi a distanza di due o tre giorni da tutti e due i lavori se di tutte sono state 3 le sessioni su questo lavoro e l'ultima ieri quella di after time rifami la domanda scusa perché è attendibile stiamo lavorando su questo anche le hanno effetto queste cose si si coincidenza che non esistono no no assolutamente se mi riviene l'immagine che abbiamo visto stamattina mi sembra che ci sono ci sono dei livelli di consapevolezza ed evoluzione che fanno sì che l'entità mentale collettiva after time per loro non si crei più non si collegano più invece livelli consapevolezza un po più bassi nel senso che non hanno ancora consapevolizzato questa parte si ricollegano a after time che con queste energie così si si potrà ricreare iniziali crearsi però quello che vedo io è che le persone che riescono a a fare questo passo evolutivo di consapevolezza saranno le persone che metteranno le basi per per il nuovo per la nuova terra nuovo mondo nuova nuova realtà se hanno allora inizia l'anno prossimo questo sta arrivando nuova realtà proprio che inizia secondo me tre anni e siamo un buon livello quindi parliamo parliamo di fiamme di fiamme di fiamme ma non è un caso che si parla di fiamme nel 2022 il 22 che cos'è l'archetipo del marco due volte 11 infatti sono per due volte 11 esatto non dici e quindi le fiamme se cause sottolinea della eccessiva magrezza di natalia e allora fin da quando è piccola io vedo che quello che è come se l'energia che lei immette allora vedo come base c'è tipo lo scheletro no ed involucro ok natalia immette l'energia attraverso il cibo l'acqua e l'energia anche proprio l'energia eterica vibrazioni ok ne mette le mette in una quantità giusta ma è come se non facesse in tempo a metterne abbastanza per tenerne e quindi è come se poi ne usa la usa di continuo neanche di più perché sarebbe tanto stanca rispetto a quello che mette ma come se non facesse in tempo a depositarne a tenerne di riserva questo è dovuto a cosa è un continuo movimento è proprio una sua modalità e come se è come se la ps avesse deciso in questa vita di incarnazione in natalia di conti non stare mai ferma quindi è proprio continuare a girare un ciclo continuo cioè non c'è il ciclo del giorno e poi notte giorno e notte no è sempre uguale c sempre questo e non si ferma mai e quindi non riesce a depositare cioè se lei si dovesse fermare non ha delle riserve vabbè cause sottirica dei problemi economici cioè della scarsezza di denaro e di delle cose sempre da pagare allora prima lo vedo che era molto di più c'era proprio tutto un interferenza il lavoro energetico che l'ha tolta questa interferenza in questa sia sì 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 sono dei rettiliani collegati a zeus c'erano che era proprio un modo per tenerla bloccata la vedevo molto più intensa prima quando adesso che è tornato il focco il falconiforme è come se si fosse agganciato a questa vibrazione ma se questa memoria di vibrazione bassa e li ha trovato l'aggancio quindi la deve sempre mantenere questa vibrazione basta quindi ci sono problemi economici scarsità ma non come prima ok fa un viaggio quando torna uno dei tre gatti non c'è più il preferito del compagno 1 del compagno vecchio caso è tutto erica era come diventato di troppo nel nella suddivisione energetica era come se a un certo punto il gatto avesse preso tra i tre troppo spazio energetico rispetto a loro due rispetto a natalia e al suo compagno e quindi il loro assenza gli altri due gatti sono riusciti a riprendere il loro spazio ma questo gatto ma è scappato e morto stato rapato io lo vedo in un'altra casa sì ma lontano penso sia stato rapito cioè l'hanno trovato che carino non è di nessuno l'hanno portato via non è un rispetto non è volutamente no 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 è stata una un equilibrio energetico tra di loro perché è come se lui avesse iniziato a prendere allora magari l'avrebbero fatto anche con loro lì però è stato più semplice diciamo quando loro non c'erano il gatto avrebbe preso tutto lo spazio e probabilmente sarebbero date via le altre due e invece così sono riuscite le altre due gli altri due a riprendersi proprio se causi dottica della difficoltà ad esprimersi entità mentale di livello 2 e livello 3 che due un po lo fanno di non essere creduta questo in generale sia che si parli di argomenti così di attualità esoterici sia che non se l'entità di livello 3 nello specifico cioè le si sente giudicata in maniera errata dall'esterno imparare capire la confusione che le fa l'entità di livello 2 come se meschiasse i pensieri ci arriva a un certo punto capisce tutto quando sta per capire il passo successivo l'entità di livello 2 gli sposta proprio i pensieri e quindi come se dovesse ricominciare a rifare tutto il processo logico bassi con problemi di memoria sempre quella problemi di concentrazione in sicurezza la 2 la 3 insieme eccessiva emotività l'entità di livello 4 anche quella che le fa fare gli sbalzi d'umore dimenticare le parole citati livello 2 direi sbalzi d'umore o comunque sbalzi di frequenza molto contenta un po demoralizzata un triste molto contento di una realtà triste l'entità di livello 4 scarsa libido secondo me c'è quello che ho visto anche prima quando lo diceva non ha ancora trovato dall'altra parte la vibrazione guarda la sua o fino a finora non ha trovato sembrerebbe secondo me col col compagno nuovo inizia a sentire questa vibrazione è come se finora si fosse messa con persone sì che le piacevano ma non ma in realtà un vero trasporto emotivo non l'ha mai provato e invece questa volta inizia a essere diverso causa esoterica di questi problemi di coppia della vecchia coppia del vecchio un bagno fidanzato allora erano le altre entità che ora non ci sono più dovevano tenerla bloccata un po come l'aspetto economico agivano anche sull'aspetto di coppia non doveva se c'erano degli uomini del tempo non doveva assolutamente trovare la serenità in quella cosa perché era un modo per tenerla ferma per non farla andare avanti nella sua consapevolezza ed evoluzione problemi al lavoro con le colleghe entità di livello 323 va bene abbiamo visto tutto chiamiamo il nonno paterno e contemporaneamente tutti i parenti di tutte le generazioni di natalia chiamiamo qui al piedi del portale aureo e a facoltà di parola a tutti hanno facoltà di parola se vogliono ma specialmente chiamiamo a parlare il nonno paterno si è arrivato nono paterno mi fa vedere come se avesse tipo un piatto vuole mostrare a natalia che ha tipo un piatto normale in ceramica pieno di monete d'oro in che senso con che obiettivo con che senso vuole far vedere questa cosa lui dice se tu cerchi bene vedrai che trovi tutto il tuo oro inteso con l'abbondanza la serenità la centratura con l'anima la felicità e lui indica tipo come se come se lui si facesse vedere come se facesse vedere le sue doti le sue capacità nonno e le divide in tre e dice se tu segui questa mia capacità quella e mezzo se tu provi a fare così come come facevo io è più facile per te e lui lo vedo quella parte lì è una parte dove lui era molto centrato in ogni cosa che faceva a livello fisico io vedo che lui si fermava osservava e poi riproduceva esattamente quello che osservava e questo mi fa vedere quanti parenti arrivano 29 più nonno 30 ok vi salutiamo tutti dalle aureo allora l'analisi e questo potremmo approfondire alcuni aspetti potremmo approfondire altre vite ma vediamo una vita fatta con il nuovo fidanzato cioè esiste tra queste 1211 sì ti vedo su un direi su un monte della turchia dove stanno costruendo un muro stanno costruendo un sentiero un muro e il muro del sentiero dove poi dovevano passare i carri per portare le merci nei vari paesi era come un sentiero di passaggio la strada di passaggio in questi carri e loro avevano come se avessero avuto erano come si chiamavano tipo muratori nel termine comunque i muratori dell'epoca ecco e loro erano erano lavoravano assieme ed erano molto affiatati lavoravano avevano creato questa impresa insieme erano molto amici erano amici già da bambini sono cresciuti nello stesso villaggio quindi poi si sono trovati a lavorare assieme e andrò uomini sì ok andiamo nel 2022 vediamo un fatto importante di questo anno che ci aspetta è arrivata una scena vedo il drago viene arrestato ho visto questa cosa molto bene quando maggio giugno proprio oggi ci sono delle cose un po particolari sia in in italia che in altri paesi anche il paese di natalia che non dico bene hai presente le palline della lotteria no ok c'è l'urna che gira con tutte le palline ok ogni pallina una d'eternum e ci mettiamo questi personaggi mi verrebbero tante parolacce ma devo dire del cavolino dentro al urna a girare insieme gli ad eterno se per caso finiamo fermando l'urna e estraendo una pallina caso dovessimo pescare i vari dragos i vari macarons i vari quello inglese in cui capelli gialli cini vari pulcini gialli li troveremo come dopo questo shaker di all'eternum allora vedo la sagoma uguale poi senza colori ma come se fossero fulminati di vedo fulminati proprio quindi tutto il bordo che sono tipo delle scosse che sparano ok e tutto quel bianco fortissimo come se fosse una corrente continua ma caro verrà arrestato nel 2022 se più o meno questo periodo perché viene fuori tutto pulcino giallo uk anche perché il papa ha ricevuto l'ennesima telefonata durante le cavolate di natale il 21 il 22 dicembre era lì che faceva gli auguri a tutti i cardinali vaticano e gli portano un telefono così hanno detto mi sa che stava per stava per dire qualcosa che non doveva dire chi lo chiamano quello che ho visto io allora lo chiamano dal deep state però quello che ho visto io adesso è che è come se sia lui sì lui che non è papà è un attore è come se sa che hanno i giorni contati ok e quindi teme questa cosa e quindi come se pian piano volesse un po liberarsi da questa come se sperasse che dicendo qualcosa potesse essere la sua pena tra virgolette potesse diminuire ok ma dal deep state lo spesso tipo in questa occasione qua l'hanno bloccato in tempo infatti se non sbaglio asma hanno interrotto anche la cerimonia no sembri un eterico vedo così che ha sentito e poi come se se ne fosse andato adesso lo d'attore se beh praticamente sento anche come avevo voce ormai anche se un attore sta facendo il gioco sporco lo stesso andiamo sempre nel 2022 e ci andiamo con natalia e con l'uomo toscano visualizza natalia come un 11 l'uomo toscano come un 11 prova a fare questa visualizzazione e se li vedi così e lo confermi e mi dici cosa vedi insomma se lo so hanno due colori diversi due font diversi due dimensioni diverse sono lontani sono vicini allora sono uguali sono grandi uguali sono chiari come vibrazione alta come colore potrebbe essere quel bianco delle alte vibrazioni della d'eterno ok e però sono girati uno verso l'altro quindi le stanchette degli uno sono che si guardano ok nel 2022 però li vieto viaggiare paralleli non uniti per si potrebbe esserci l'occasione che loro si incontrino se allora con le condizioni di oggi si incontrano potrebbero accelerare un po i tempi se tutti e due facessero mettessero questa intenzione come obiettivo potessi potrebbero incontrarsi fra un anno e mezzo due se no vedo che sin con le condizioni di oggi e diciamo una tempistica come c'è prevista dalle condizioni di oggi passano anche un po più di anni però deve essere un obiettivo perché sennò rischiano di passare tutta la vita in maniera parallele non si incontrano e l'obiettivo di lei vabbè lo sa oggi forse magari aderisce e lui che consapevolezza a lui italiano sì 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 non è detto al cento per cento no no però italiano allora si accorge si attacca alla fiamma la vede in eterico quando specchio e non si stacca più e non si stacca più di cosa manca che la possibilità di rimanere due rette parallele e perché deve rielaborare questa sensazione no la sensazione che è sconosciuta che cos'è deve avere la deve darsi la possibilità la curiosità e il coraggio di andare a fondo e vedere che cos'è questa sensazione che tu mi sente non sa cos'è ok con queste tre condizioni loro si possono incontrare fa qualche anno se c'è c'è anche la vedo anche proprio la possibilità di accelerare può essere tra un anno e mezzo due coraggio è detto si deve dare la possibilità il coraggio e sera l'altro lo ricordo di natalia l'ho visto lina e nella registrazione va bene beh la parola coraggio molto bella e forse spesso la possibilità c'è o si può creare in pochi minuti ecco la curiosità curiosità il coraggio è quella cosa che come si vedessi due rette parallele no che magari possono sempre rimanere parallele ma avvicinarsi 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 ma è solo un vero unico atto di coraggio che le sovrappone e le unisce se esatto e lato di coraggio magari è solo di una parte due quello che vorrei sottolineare è che nella malaugurata ipotesi che questo coraggio manchi il prezzo da pagare è incommensurabile lo spreco anzi non il prezzo da pagare è incommensurabile e quasi inconcepibile ma assolutamente questo in primis per sé per chi questo coraggio non lo esprime e in secondo luogo per tutti perché se quei 300 milioni fossero almeno la metà ecco fossero uniti io credo che il baraccone c'è può fare niente nessuna data infatti non esiste di state dava site di stuit che possa nulla contro una cosa del genere si forma un'energia che è incontrastabile da nessuno neanche entità o legia di anni non sentiamo neanche più parlare i pleiadiani che mi viene la tele ginocchia cioè due ginocchia grandi come delle bocce piene di latte i pleiadiani ne posso più dei pelle di adiani dove sono pleiadiani mandiamo gli le palle del lotto ci sono cioè in ogni momento ci sono dei tipi di entità che stanno diciamo appena fuori pronti a cogliere l'attimo e in questo momento ci sono c'è un gruppo di pleiadiani che pensano di poter cogliere l'attimo quale attimo di una rete non mi faccia come se aspettassero una vibrazione bassa di qualcosa qualcuno per poter interferire va bene andiamo con natalia dove ci vuole portare dove ci vuole portare natalia a cluster perché potremmo andare da un'altra parte perché vuole andare lì perché avevo al togliere tutto e lo fa sì allora posso venire arrivata nasce ma fatto vedere una scena me l'ha fatto vedere lei allora mi ha fatto vedere che è uscita dalla vasca diciamo di franco nero ok da sola e mentre usciva quella vasca lì si è trasformata in vibrazione alta e poi si è omogeneizzata al piano dove era quindi è sparita la vasca è diventata vibrazione alta ok già subito senza cluster senza avatar no solo quel passaggio lì cioè come se adesso è libera di potersi muovere quindi vede in lontananza la felicità e però libera se vuole di poterci andare prima invece era incollata la ecco c'è questa differenza con la consapevolezza che ha visto avendo visto queste cose avendo queste informazioni con questa consapevolezza ha fatto sì che lei si scollasse dalla cluster come li vede i contratti sono tipo delle delle colonnine quadrate fini che hanno tanti e tacchette un po come i regoli quelli che usano i bambini per imparare a raccontare no e quindi ogni v per contratto aspetta me lo ripeti che è andata via ogni cosa è un contratto ogni vivi vite allora ogni ogni vita è una colonnina e ogni ogni tacchetta è un contratto va bene cosa non vuole fare sapere aprendo il portale definitivo e le ha buttate tutte dentro adesso l'ho chiuso questo faccio da vedere la veterno l'ha fatto anche lei e l'ha messo la allora c'è l'avatar che ha tipo una striscia qua tipo come se fosse materiale di lavagna e e con il gesso lui dice io qua posso cambiare a seconda di quello che voglio che di quello che voglio ti devo far fare posso cambiare la scritta adesso e se lo può fare ma non lo fa perché è come se poi natalia sa cosa scrive e non riesce a fargli fare quello che vuole ok può far prima a buttarlo un noto questo sbuffoncello che ha chiuso portare definitivo ad eterno mo ok l'ha fatto l'ho messo lì ok ci sono ancora il falconiforme un edl tutti gli impianti e le tre entità mentali no gli ablaction no c'erano cloni no ok natalia si regala altri cinque ad eternum corpo fisico dove lo mette ma ne ha fatti due perché era indecisa tra la tiroide e diciamo l'utero e ne ha fatti due me emozionale dove lo mette nella tristezza dove c'era la tristezza e diciamo solitudine se solitudine tristezza essere occupo occupa mentale dove c'era l'impianto mentale al posto dell'impianto mentale ti ricco e ti ricordo mette qua c'è presa il corrispondenza del plesso solare e subliminale poi se ne regala un altro lo mette in casa ne crea due sui gatti in una testa così che si sono preferiti sono a posto ne mettono al lavoro prova insegnarlo al compagno attuale il vecchio e al nuovo e poi siccome è connessa a quello toscano con connessione in un element siccome lei lo sa fare dovrebbe saperlo fare anche lui ma in eterico l'ha fatto vede cosa sa cos'è e nella matrix ha sentito una cosa strana e lo vedo potrebbe essere con altre 34 persone fatti con una cosa strana e dicono e gli altri dicono cosa e lui dice no no niente non so e lo cosa ho sentito come come una forte esplosione interna che ha fatto tipo un balzo così in tutto il corpo quindi lui ha fatto tipo un sobbalzo sono le vibrazioni che si sono alzate di colpe queste sono abbassate ok chiediamo un messaggio finale della ps di natalia natalia e mentre ci dà il messaggio la ps si tinge di un nuovo colore tutte le unghie vediamo cosa fa soprattutto della mano sinistra la mano sinistra le ha fatte tutte rosse anche l'anulare tutte rosse e dice la mano sinistra il colore rosso perché la mano che io tendo alla fiamma in questo momento l'altra mano fa colori a caso colori che vi piacciono vedo un violetto vertino chiaro un azzurro arancione giallo messaggio lavora il consiglio e lavora tanto sul sulla tua forza sulla tua centratura e sul tuo coraggio tu puoi tutto quindi sei in grado di fare tutti i passi che vuoi ora sei libera non è più nessun gancio nessun legame a livello eterico quindi tutto ciò che tu senti come limitante elegante è qualcosa che riguarda l'esterno le persone esterne e non è niente che riguarda te questo ricordatelo perché altrimenti ti fai ancora incastrare interferire di nuovo ripetere ripatisce quello che gli ha detto il nonno quello che mi fa vedere è fermare come se mettesse come se avesse una macchina fotografica ok che prende una la scena intera e poi mette lo zoom e ingrandisce un particolare solo nella scena e lei si deve centrare su quel particolare e alzare le vibrazioni di quel particolare e in questa maniera lei può prendere le informazioni che le servono il messaggio che le serve dalla sua ps per andare nella direzione giusta un po come l'è successo con la mucca nel recinto la buca che cercava di scappare da recidio c'era tutto l'occasione la comunque c'era tutta no la tutta la campagna questo 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 recinto e lei è riuscita a vedere il particolare della mucca che andava sotto ecco diciamo che il senso quello no e sia anche dato il senso taglia l'uguale l'azzurro del certo ma non volessi misbilancio come si chiama il toscano che da premere con le molle con la r alla rm è arrivata subito poi mi è arrivato roberto potrebbe troppo poi subito rena subito dopo renato per arrivato cardo se la r r costa basta avanzare è già tanto quindi un iniziale si ok e la piscina con le sabbia mobili nere c'è ancora no no proprio come la vedi non lo vedo più fa parte del resto del terreno la taglia come la vedi allora natalia la vedo che gira con vedo questa carica questa vibrazione molto alta la vedo molto leggiatra che la vedo che gira in cerchino come se ballasse come se facesse delle pirouette continue e prende mentre gira prende tutti i particolari che le servono a 360 gradi per andare nella direzione del cielo benissimo brava elena se contenta sì